Uga a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Hildan ed oggi vi porto un nuovo gioco per Android, telefono eccetera eccetera e si chiama League of Stick come potete leggere Che cos'è League of Stick ragazzi? Potremmo giocare con i personaggi, tra virgolette, con i personaggi di LOL, League of Legends però in Stick, Stickman, chi non conosce Stickman guarda su internet e sono fantastici Allora, l'ho appena scaricato, lo potete scaricare su Play Store però costa, costa 99 centesimi io volevo provarlo, ho visto su un video, è bellissimo adesso ve lo porto, ve lo faccio vedere anche a voi e come ripeto, l'ho appena installato e adesso andremo a giocare andiamo, andiamo Allora, benvenuti a League of Stick porta le tue armi e preparati a combattere duramente ok, scegli un campo battaglia cioè, è uguale, sono le torrette, che cacchio è questo? scegli il livello, va bene eeeh, questo sicuramente è Garen, a palla questa nasce voglio vedere i personaggi ma è stardi, fatemi vedere i personaggi no, voglio vedere i personaggi vabbè, andiamo si i nemici distanti sono i più pericolosi, eliminano i primi va bene scopriamo le proiezioni di base beh, sembra ovvio spazio da sinistra ok, spazio da destra ok ma chi è? cambia eroe, richiede un secondo eroe ok tocca per attaccare, premi per una combo ogni eroe ha 4 skill beh, come lol ovviamente eh, è Garen questa la Garen non ce l'ha, però va bene ah, trotta, ce l'ha questa che è? eh, la Harry, mi pare ovvio va bene ora che abbiamo capito andiamo uuuh uguale mamma mia aia stardi mamma mia eh, trattolino amoroso boom aia ah, tratta male boom mi hai sentito i suoni, bellissimi tipo transformer di qua, di qua, di qua, di qua, di qua, di qua eh, non mi riesco a cliccare oh, mamma mia è bello ragazzi, però, eh non è male, eh adesso è un gioco dell'android dove stanno, eccolo oh, ma chi è? Anitta lì no, non è Anitta lì che stanno no, no, no mi sta a scattare il computer nel computer preistorico boom mamma mia ma è Chihizu ragazzi mamma mia boom, boom è un gare magari può essere così gare è un gare fantastico sì, boom trattolino amoroso boom boom ma ragazzi mi sta piacendo veramente e mori e mori stava fatta mamma mia si stanno pure le armi wow you win yeah andiamo avanti ok ragazzi andiamo avanti questo gioco veramente è bellissimo boom 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 mamma mia ragazzi mi si sorprende un po' la mano eh poi ah c'è che i suoni sono abbastanza alti è stata un attimo ah c'è pure pausa è decisamente un po' meglio di qua karen di qua karen boom muori muori boom ragazzi voi nei commenti fatemi sapere che ve ne pare perché a mio parere sembra veramente bellissimo andiamo andiamo go 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 che so sti cosa boom aia bam allora ragazzi penso che la r cioè questa qui la quarta skill non vorrebbe lasciarla per il boss finale tipo questo qua che ho appena chiamato eh un'azza la miseria di qua dove hai eh vabbè l'ho preso boom yeah abbiamo sconfitto anche il secondo boss va bene ragazzi vi ho fatto vedere come funziona il gioco e se vi è piaciuto fatemi sapere qui sotto nel commento mettete tanti bei pollicioni noi ci vediamo nel prossimo video uga ciao 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 ciao